Produce componenti meccanici di alta precisione, come questo pezzo impiegato dalla NASA per lo shuttle, l'HMV, azienda con sede a Pontassieve, provincia di Firenze, che entro due anni si trasferirà nel primo stabilimento italiano interamente concepito a emissioni zero. Il progetto è stato presentato in anteprima nella sede di Conf Servizi CISPEL Toscana. L'HMV ha 30 dipendenti e negli ultimi due anni ha raddoppiato il fatturato. La fabbrica a emissione zero comporterà un investimento di 3 milioni di euro. Venendo a un settore come quello delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, abbiamo pensato che il vecchio mondo metalmeccanico potesse essere un'ottima occasione per testare una serie di tecniche marketing e tecnologiche per poter rilanciare una tecnologia che ancora può dire la sua nel campo internazionale. Nel nuovo stabilimento, sempre a Pontassieve, emissioni e consumi saranno abbattuti attraverso le tecniche di costruzione, tecnologie avanzate e l'uso delle energie rinnovabili. Seminari, workshop e altre iniziative coinvolgeranno nel progetto altre imprese e fornitori di prodotti e servizi green. Anche le aziende ed i servizi pubblici locali metteranno a disposizione la loro esperienza. Un know-how a disposizione del manifatturiero toscano, a disposizione delle aziende toscane che vogliono cambiare completamente la loro fisionomia per poter oggi essere più all'avanguardia e avere aziende più efficienti.